Ciao ragazzi, ciao! La prima volta che entrai all'ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, il vero problema che mi ponevo era ma come farò io a restituire la verità di queste storie? Motore! Azione! Una cosa secondo me fondamentale è stata proprio la collaborazione tra la macchina cinema con questi numerosi gruppi di persone che hanno un problema col disagio mentale che lavoravano come attori e che noi abbiamo coinvolto in questo lavoro. Sto cavallo va fora? Spacchiamo tutto! Vai! Spacchiamo tutto! 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 Ciao la nazi, ciao